buonasera ciao e ti chiedo ovviamente parto dalla tua prestazione per poi arrivare alla vittoria e penso sia la cosa più importante ci è sembrato noi in questi in queste settimane in cui magari te non c'eri che mancasse qualcosa a questo Empoli e oggi hai mostrato di essere veramente in forma quindi ti chiedo come stai come valuti la tua prestazione e poi ovviamente quanto è importante questa vittoria perché diciamo se non vi porta la salvezza comunque mette un ulteriore mattoncino importante. Buonasera fisicamente sto bene ho avuto qualche problemi nella caviglia e vorrei ringraziare i staff medico fisioterapisti e tutti perché hanno fatto un lavoro molto bene con me e oggi sto in campo e sono molto contento perché abbiamo lavorato insieme e loro mi hanno aiutato per fare una grande partita oggi e questa partita era molto importante per noi perché abbiamo buttato i punti contro il Sassolo e oggi abbiamo provato di fare una grande partita e l'abbiamo fatta e secondo me abbiamo fatto una partita di uomini. Ciao ti chiedo questo ne parlavamo prima anche con il mister però la versione del calciatore di un elemento del gruppo quanto è stato importante ritrovarsi insieme nel ritiro quelle in queste ore su che cosa avete lavorato avrete parlato fra di voi calciatori qual è stato il motivo principale insomma di coesione che poi vi ha fatto fare questa grandissima partita come diceva il mister dove è emersa secondo me la vera forza che è il gruppo di questa squadra. Sì abbiamo parlato insieme e oggi l'abbiamo dimostrato che eravamo un gruppo fantastico e oggi eravamo su tutte le pari veramente abbiamo fatto una grande partita difensiva e sono molto contento per il gruppo. Ciao secondo te dopo anche dopo questa vittoria importantissima quanto manca alla salvezza ai festeggiamenti? Mancano ancora qualche punti lunedì abbiamo ancora una partita a casa contro la Sanitana e dobbiamo vincere questa partita e dopo vediamo se siamo salvi o no però secondo me mancano ancora quattro punti per essere tranquilla. Ciao buonasera percepisci te ne sei reso conto che sei entrato un po' nel cuore dei tifosi dell'Empoli sei diventato un beniamino fondamentalmente per il tuo impegno il tuo modo di essere furioso tra virgolette sportivamente parlando ovviamente in campo. Quanto lo percepisci questo? Mi vedo tutti i giorni già questo inizia con le mie compagnie di squadra perché loro quando sono arrivato erano fantastici con me mi hanno dato tutto e adesso tocca a me di dare tutto per la società per la squadra perché sono venuto qui in prestito e non è facile di essere dentro una squadra in prestito perché alla fine non so se rimano qua o vado via e io voglio dare tutto perché su questa società e oggi sono fortunato ho fatto gol e se posso fare tanti gol così per aiutare la squadra a salvarsi lo farò sempre. Sì un attimo l'ultima l'ultima al volo e senti appunto riprendendo le parole del collega ma prima di tutto ci ha fatto prendere uno spavento quando ti sei buttato in terra alla fine perché ero morto. Però ti piacerebbe rimanere a Empoli? Questo non mi faccio questa domanda adesso sto a Empoli questo momento io do tutto alla fine vediamo.